Brutto risveglio nella mattinata di mercoledì 19 giugno per gli abitanti di via 4 novembre Un incendio è partito presumibilmente in un cortocircuito della canna fumaria, avvolto da prima al tetto di una villetta e in poco tempo è intaccato l'intera struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brea, San Maurizio e l'autoscala. Presenta anche la polizia locale per bloccare la viabilità e consentire ai mezzi di soccorso di operare liberamente. Il leso è il proprietario che è uscito dalla casa e ha lanciato l'allarme. L'incendio è stato domato e spento ma l'abitazione sarà devastata di fiamme. Signora è in corso l'operazione di bonifica emessa in sicurezza. La persona dentro è stato riveletta. Grazie. Grazie. Grazie.